Lorenzo De Cecilia si è concluso il campionato con la quarta sconfitta consecutiva. Sì, diciamo che ci porteremo dietro un po' di amarezza per quella che è la fine di questo campionato. Dobbiamo fare un bilancio generale, siamo direi più che soddisfatti, abbiamo comunque raggiunto i nostri obiettivi. Forse questa fine di campionato, questa quarta sconfitta consecutiva, come ben ricordi, è dovuta rispecchia un po' con la qualità della squadra. Una squadra comunque giovane, con poca esperienza, dove si cerca di dare tanti innesti. Sì, abbiamo perso magari di vista l'obiettivo perché è stato raggiunto e quello che ne è venuto fuori dopo nelle ultime partite ne è magari la conseguenza. Si è tentato di costruire magari qualcosa per la stagione successiva, facendo giocare dei ragazzi giovani, facendoli esordire. È una scelta giustissima, abbiamo lavorato più in prospettiva che nel concreto per finire invece il campionato al meglio, le nostre possibilità. Obiettivo raggiunto, ottimo campionato, risultato positivo. Ci siamo un po' persi via sul finale, succede a tutte le squadre. Il prossimo importante appuntamento qual è? La stagione si è conclusa, direi appuntamento alla festa del rugby 6, 7 e 8 giugno e 9 giugno con le premiazioni, miglior giocatore, uomo squadra per tutte le categorie. Ci vediamo alla festa!